In nome del Padre Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio, si fece buio su tutta la terra. Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra si scosse, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti risuscitarono. E uscendo dai sepolcri, dopo la sua resurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, sentito il terremoto e visto quel che succedeva, furono presi da grande spavento e dicevano, Davvero, costui era figlio di Dio. Era verso mezzogiorno, quando il sole si ecclessò e si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. La terra si scosse, le rocce si fai. Si fai. La terra si scosse, le rocce si fai. La terra si scosse. La terra si scosse. Grazie. 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 a prendere l'immagine della vita. A presto, a presto. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti